Alle 10 di questa mattina la guardia costiera ha passato al setaccio il peschereccio croato Andrea, naufragato a largo della costa di Torrette, nel cuore della notte del 26 settembre e tirato a secco nel cantiere della Marlift di Fano, dopo che ieri mattina si sono tenute le operazioni di recupero da parte del motopontone Magno. Gli uomini della capitaneria, coordinati dal capitano di fregata Maurizio Tipaldi e guidati dal comandante del porto di Fano Castellana, su indicazioni del magistrato, la dottoressa Valeria Cigliola del Tribunale di Pesaro, hanno prelevato varia documentazione, ispezionato le cabine, i gavoni di ricovero del natante e prelevato strumentazioni di bordo, utili a fare chiarezza sulle tante zone d'ombra che la vicenda presenta. In primi, se si vuole ricostruire, la rotta tenuta dall'equipaggio e la velocità del natante al momento dell'impatto con il fondale. Già questi due elementi aiuterebbero a capire diverse cose. Il punto dell'impatto primario è ben visibile sulla prua del peschereccio di 14 metri in legno, che presenta in corrispondenza della ruota di prua chiari segni di impatto. Ma le vie d'acqua sono più di una, non solo questa, che hanno fatto sì che il peschereccio colasse a picco. Anche lungo le fiancate, sotto la linea di galleggiamento, si sono aperte diverse falle, non di grosse dimensioni, in base anche alla conformazione delle scogliere, ma sufficienti a causarne il naufragio. Il lavoro dei militari della Guardia Costiera sul natante continuerà presumibilmente almeno fino a metà della prossima settimana, dopodiché una volta dissequestrato verrà rimesso nella disponibilità dell'armatore.